Musica Non va, non va, non va! Cos'è che non va, non va, non va, non va via macchia? Ma non va bene neanche il detersivo? E quindi? Ci vuole un super detersivo! Come dicono sempre le Great Sister? Quando la pulizia si fa dura, le dure incominciano a pulire! E brava la mia assistente! Dai, non perdere! La assistente è perché assisti la maghetta delle pulizie! Dai, cominciamo subito, creiamo la nostra pozione super pulitore! Pulirò! Sciacola tua mamilla! Oh oh, sciacola tua mamilla! Amor mi dente! Cu-cu! Amor mi dente! Glicerina! Cu-cu! Nitroglicerina! Cos'è che? Glicerina? No, no, tu hai detto nitroglicerina! No, no! Giuro che ho detto glicerina! Ti ho sentito benissimo! Hai detto nitroglicerina! E come sanno tutti, la nitroglicerina... Esplosì! Chichi! Cos'è che mi hai detto prima? Esplosiva? Eh sì! Ma mi ho detto esplosiva, cara la mia pombarola! Adesso, dovessi metterci tutto il giorno! Pulirai tutto! Io lo sapevo! Lo sapevo che non dovevo essere la tua assistente! Non so! Non so!